Non so, non voglio lasciare nessun segno. Io lavoro per me, per esempio, perché mi piace, perché sto bene quando lavoro. Mi piacerebbe nel mio lavoro, che tocca anche la ceramica, per esempio io cerco, spero di essere riuscita, ad elevare la ceramica a scultura, a qualcosa di più, a qualcosa di più importante, a pezzo unico, usando l'argilla, i colori, eccetera, ma far diventare questo è una cosa importante, sai che è considerato un'arte minore. Non è un'arte minore, dipende che cosa tu fai.